siiii ragazzi e benvenuti a quest c'è una porta non è come le altre volte c'è una porta e non è in mogano perchè è tutta scassata comunque io sono il vostro xd capital legnata e siamo di nuovo su slender di nine pages assieme a xd super baracca cacca xd per niki light xd estropim speriamo di farcela ragazzi col cazzo bene andiamo avanti va bene dai iniziamo dicevo questa porta non mi piace però la facciamo scomparire subito forse sarà la porta dell'uscita è scomparsa dobbiamo correzione 9 pagina 9 perché 8 sono da deficiente non andava bene 9 9 perché 8 è poco 8 è troppo poco veramente è pochissimo la differenza marginale ci deve essere ci deve essere per forza altrimenti siamo contenti se non si chiamerebbe slender name basis non ciò cazzo mc 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 non c'è un taglio nell'armadio non ciò cazzo mc non ciò cazzo mc anche nell'armadio va fatto inizia un bellissimo slender blende inizia un benissimo torino to Carli strumento e non c'è che cazzo è successo stavata 1 studento 2 stai da attrezzo possesso di questo tx di gioco oddio cazzo stanno ormai topa in gara ds l'euro continuati in settimana di un'estilità successo e se gli usi a terra si usiamo contro slender queste scatole disegni non fa niente non fa niente bene non c'è un giorno quando vabbè vero spero votarsi pure che Che per ironia della sorte Ironia della sorte Ironia della sorte vuole che Vuole che blocchiamo Slender Mi sa che non funziona Mi sa proprio pure a me Già anche a me No perché se forse No perché se poi Se poi blocchiamo Slender Già si stanca Ma porca puttana Non ho pensato anche questo E' l'unico che non fa vibrare La doccia mentre corre Si stanca No Il buco nel soffitto Oddio qui ci pisce alla Slender Che schifo Si Slender pisce nel soffitto Adesso guardo un po' di più Mi sa che alla mia Sua piscina è acita Ci siamo già stati qui E' di andare da quest'altra parte Ci siamo persi Speriamo di non incontrare un buco enorme Il soffitto a Slender dove caca Ti prego non dire dove caca Slender Che Lo so La caca dello Slender è molto No mi vediamo mitare è diverso Vomiti cacca dello Slender che schifo You will die Dovrai morire Ma mori tu Ma morire Dovrai morire Grazie Ma sto cazzo di spiegazzo Tutti tutti cazzo del mondo C'è qualcosa qui Sopra Tra niente Una monetina Porca fu Porca di quella E' scomparso E' scomparso Due tre muri Ok non c'è Perfetto Andiamo dalla Diigheto Andiamo avanti come se niente fosse l'amore 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 c'è rotto il cazzo fa culo slender mi hai sputato in faccia mi hai sputato in faccia non mi sputare anche in faccia che schifo ora non vedremo niente infatti se perdiamo è colpa tua ma come se prendiamo è colpa tua ma non è vero ma non è vero vero falso c'è una pagina e sono quattro dove dobbiamo andare no chiami niente la 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 ma che cazzo oh oh che cazzo è stato potresti stare un pochino calmo xt astro b un pochino no beh noi ci abbiamo provato ci abbiamo provato e stai facendo incazzare quindi fallito fallimento fallimento fallimune mamma quanto sei brutto eh bruttissimo succhiamila fava stronzo che schifo cazzo 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 no 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 come dire incazzare esatto e dopo se si incazza ci ci prende purtroppo no no se si incazza prima che si prima che si si incazza prima di prenderci ci sparano una pallo l'ultimo cazzo 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 nel culo dello slender niente che niente che dobbiamo incontrare lo slender così ce la facciamo nel culo se prima qui assolutamente assolutamente obbligatoriamente eh 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 ma perchè niente tanto per vedere una cosa mamma mia che vuoi vedere la monetina non c'è mai intenzione ok possiamo toglierci il dubbio posso dare 10 soddisfazione di aver trovato la prima pagina di appesare la soddisfazione di aver trovato lo slender ovviamente quella infinita quella non ha prezzo ovviamente gratis davvero gratis vabbè c'è la schiena ma se non si è strumento che sei slender prima scorreggio scorreggiarci in faccia scusate una cosa molto giusto 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 scusate 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 se non è andata scuola come fai io sto gioco non mi puoi insegnare l'educazione ma nella vita reale non ci hai fatto che scorreggio in faccia è proprio educatissimo ma proprio educatissimo al 100% massimo dell'educazione davvero massimo dell'educazione ti diamo 10 slender che bello 10 all'opera 10 calci nel culo 10 calci nel culo 10 calci nel culo 10 calci nel culo più una lode una per lode insomma una lode di calci in culo e qui dentro non c'è niente come al solito diciamo il calcio ti facciamo finire nell'armadio si giorgio armadio non c'è giorgio armadio non c'è forse giorgio per esempio non c'è neanche la torcia che si smicchia farlo in qualche parte appicc che cazzo che cazzo fa nooo sta battuta era così squallida che perfino la lambadina si è finita andiamo avanti xd con ingratta mio dio scusate ma perdonatelo perdonatelo adesso ti faccio una domanda se tu adesso incontreresti se tu adesso incontreresti uno scogliattolino cosa faresti cosa faresti cosa faresti ovviamente e poi gli spara addosso ma non l'ho ucciso non l'ho uccisi io gli scogliattolino ti ho detto che la pistola la pistola quella che usi per sparare o quella che usano per pisciare sei su no ok sei sicuro che si può miglietti sicuro 100% 99% 99% c'è il mio posto si vestiti benignati non c'è il suo rischio che scogliattolino il buon e il segno risparmi ma non ho capito essi infatti dove vada fare l'intervenza vuol dire che tuo è sparato a uno scuola uno scuola il titolo la città ma la città non sono state azzardi io ti 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 distruggo non so come ti distruggo non so come ma ti distruggo non so come ma ti distruggo ti farò il culo più non posso che ti 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 dirai così la vede è facile che lui lo possa inculare con un culore così ma senti i culori ma co come cazzo senza neanche indifferenza senza niente senza niente senza niente ti tolgo il via via va al culo dal cazzo ma anche non ti metti ma spiro del culo ma al culo ma perché mi chiami ha stonato l'orecchio a me entrambe andiamo avanti a me anche il culo che sto velo mi ti stonato il culo ovviamente come cazzo ho fatto come cazzo ho fatto ah no non posso slender dentro al quadro appare slender come cazzo è possibile in questo capitolo no no non c'è nessuno scogliatto tu vedi lo scogliatto qui no no è una cosa esiste invisibile una pagina lo so dopo dopo la pagina dopo una pagina ok qui lo cazzo la chiave dai filiassi le culo pa 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 per un problema quando siamo tutte quante le stanze e mi sembra oggi la seconda media c'è giusto ma prenderà se non ci siamo poi l'apprezzo della settimana c'è un'esercizio di benedizione la fatta da qui ti scordo che non si parla di spisa in bedina indietro inizio di anni mattina in teggi su invece che assegna figli a 7 ci prende a 7 ci sta sul culo sette volte su questo posto di su ora siamo a tre pagine fammi prende sta pagina se la pagina è solo in questa maniera di cui la chiamata merda se ne stessi lanza stati stai dietro questa porta un altro scogliatto xd bonnik light ma dai non c'è un cazzo ah no ci sono la pagina qua c'è sempre la pagina c'è l'armadio si infatti devo andare vediamo un poco non c'è un cazzo nell'armadio eh slender non ci fottere stavolta non ci fottere no 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 ho detto non ci fottere in generale anche mai più ecco infatti per questo l'ho detto mai ma pure sempre puoi decidere la pagina che abbiamo prima apreso è quella che porta a più sfiga eh mi sa proprio di si però perché diceva morirai giusto eh infatti ogni volta che prendevamo quella pagina si va vero vero panculone merdone tizzone tizzone ok avete capito perfetto ma che cosa abbiamo capito ma che cazzo è addio ma che è addio ma cos'è ma cos'è ma cos'è è lo slender ma che cazzo è successo allora dove era slender prima dal nulla dove era quando abbiamo visto dietro a quella porta quale porta quella che si trovava in fondo in fondo a sinistra noi abbiamo girato a destra no era proprio in fondo era in fondo il corridoio poi in fondo a sinistra adesso noi quindi abbiamo girato a destra e dove era slender adesso ma che ma che cazzo è sta roba ma che cazzo è sta roba tappate le orecchie al mio via 3 2 1 via via ma per cazzo è vai ma quali base di merda mettiti una cosa nel culo fatti saltare in mano e non romperci più cazzo ma che cazzo è ma che cazzo è ma che cazzo è ma sonata le orecchie addirittura con le mani anche a me è successo la stessa guardatela come ride guardatelo Guardate quel bastardo! Guardate il pene dello Slender! Che schifo! Fanculone, puzzolabbra che ha provato l'ultimo tentativo, poi ce ne andiamo tutti a fanculone! Lo mandiamo a fanculone una volta per tutte e ci proviamo la prossima volta! Sti cazzi! Ci dobbiamo provare forza la prossima volta! Ovviamente! La chiave è qua! Ovviamente è la chiave! Spostiamo il tavolo! Evitando però di sparare gli scogliastolini! Io avrei un'idea di sposti, di un pietro intusso! Perché sei in WDV apri l'armadio! Tanto non so che non c'è un cazzo però infatti non c'è un cazzo! Infatti non c'è un cazzo! Il gusto di aprire le cose! Il gusto maro delle sorprese! Cioè avremo il culo dello Slender! Anche se non c'è niente il gusto di aprire il culo dello Slender! Tantiss! Tantiss! Mettiti a posto! Non diamo una forza sopra! Ah! Che cazzo! Spostati! Non rompe le palle! Capito Slender? Mi sa che possiamo usarlo come... Come il metodo per farci catturare? No! Hai ragione! No! 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 Dico le scatole! Mi sa che possiamo usarle come... E come spediente per non farci prendere da Slender! Giusto! Ottime idee! Ottime idee! Così potremmo farci catturare in un secondo momento! Oh! Bravi che ti ricavetele! Ma perché pensare soltanto al lato negativo della cosa? Perché tu sei arrivato da un lato negativo della cosa! Cioè nel senso negativo della cosa! Poi se qua ci sta qualcosa? Non c'è un cazzo! Ah! Non c'è la faccia! Eh! Neido! Non c'è un cazzo qua! Non c'abbiamo la chiave! Sì c'abbiamo la chiave! La chiave ce l'abbiamo! La chiave ce l'abbiamo! Dove ce l'abbiamo? Nell'Ulo ce l'abbiamo! Nell'Ulo ce l'abbiamo! Nell'Ulo ce l'abbiamo! SLED! E che ti buoni grattano ancora gli scogliatti! Ma che cazzo! Ma che cazzo! Ma questi scogliattoli! Ma io non li uccisi gli scogliattoli! E' quell'interferenza che cos'era allora! E' SLED! Ma come è che cazzo? Ma tu qua ti ammazzi pure gli scogliattoli anche qua! Ma che cazzo! Cosa dici? La cacca rosa! La 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 la! Noi guardiamo l'armato! Noi non ti cagliamo! Non ti cagliamo! Vai prendi le scatole! Sei scomposso! Le scatole si scomposso! No è scomposso Slender! Eh col cazzo! Allora adesso non andiamo da quest'altra parte! E tu Stella! Ah bravo! Perfetto! Ok! Slender ci ha ascoltato allora! E' obbediente! E' bravo! E' molto bravo! Bravo Slender! Buu! Stavolta è stato bravo! Qua già l'abbiamo presa! Oh! Cazzo! Ah è vero che giusto! L'abbiamo già presa qua! Allora dove andiamo? Dritto! Per forza! Mi sembra giusto! Per forza dritto! Speriamo che la lampadina non si fulmini! Non ti affannare! Eh va bene! Non ti affannare se no la lampada si fulmina! Qui non c'è una cazzo di pagina effetto! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Dove andiamo? Secondo te? Avanti! Ecco! Tra un perfetto! Andiamo avanti! Eccola! Ah eccola! Eccola! Andiamo all'armata per... Giusto per il gusto di aprile! Tendono dietro per me! Per fare che cosa! Mi sentirevi all'orecchio e sei accanto! Ma lui non c'ha l'orecchio di piùlo! Forza scontrata in tutti i fiori malati! Prima cosa dobbiamo vivere! Spergo il suo lavoro! Spergo il suo lavoro! Ci sentiamo bastardo! Spergo il suo lavoro! Spergo il suo lavoro! Stronzo di paura! Vieni con Gioianno! grande hai vinto ok libera tutti se tutto lo se l'ho non dire niente non dire niente solo quando hanno finito il video a quell'ora potrai vivere un altro tentativo per tutto qua passare facciamo l'ultimo perché io non era un ultimo ultimo perché ormai 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 il nero è da adesso vediamo velocemente non è vero che non c'è un gioco e non c'è un gioco che non è possibile lezioni di possibile vai vai corvi corri 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 per i dati stai del muro vai non di coloro sede ma si va da lui ma è cesso per dire ma c'è niente nel cuore di sede abbiamo trovato le chiave metti da il culo ritmo 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 se non c'è ritmo non c'è musica non c'è musica la musica la musica canterà e noi suoniamo la musica cambierà la prossima volta la musica cambierà ah non canta la musica canta musica canta canta musica vai canta la chiave la troviamo sempre non ci sa come è fortuna armadio 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 niente da fare donna armando che cazzo è pensavo cosa pensi e se entriamo per ultimo nella stanza dove sta la porta no no l'anno è il luogo dove abbiamo giocato finire che ci fotte ci fattano lo slender e c'è ragione infatti la slender è più bravo di me non ti azzardare un altro scogliatto l'ex di bonnichi lato mi ha provato non ci provare sai che a me lo sai che a noi non piace appunto proprio perchè lui sa che a noi non piacciono fa ok ci fai rispetto maledetto stronza ti odio slender di merda ma che scusa non è con il mondo non hai continuato dovevi continuare è questo che si stanca poi ovviamente ovviamente salda sanjaro ma per esempio lo slender di merda sta parola è troppo buona stiamo slender merda vuoi slender merda tutta apposta? è una volta quante cazzo di volte apri ste cazzo quante cazzo di volte ci vuoi scorreggiare infatti eh quanti fagioli hai mangiato dimmelo devi dirmelo adesso subito immediatamente col cazzo non dirmelo col cazzo dove cazzo stiamo andando? quante volte sto dicendo cazzo quantissima volta oddio qua ci fa di nuovo tanno lo slender cazzo faccio mini nascondino assieme a slender qui mini nascondino bellissimo solo che noi vinciamo e lui perde mu haha scusa attraverso che si prende un uomo ok mi sa che deve essere un sottico prossimo punto giusto per il giusto ovviamente per ieri ce l'ho pensato infatti deve essere una sondenza prima di sparare prima di sparare allo slender non pensare perchè non ci devi pensare due volte a sparare allo slender è un miracolo che non è ancora questo non mi raccomando perchè non è che il mio fuoco perchè ti ho ricordato non si sa siamo fottuti uh... 7 su 9 vai ce la possiamo fare possiamo battere il record di 8 su 9 sender ci fai battere questo record ti preghiamo almeno questo almeno il record su compiacere dai ti prego almeno questo almeno questo siamo veramente gentili con te ci metti facciamo vincere 3 su 9 vai adesso ci vuoi prendere no ma perchè no dai cacca rosa ma non mi sputare ma non mi sputare ma non mi sputare mi sputa slender ti consiglio vai 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 corri corri muoviti 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 no no non ci credo no 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 9 pagine su 9 9 pagine su 9 ci mancano solo uscire dovevamo uscire da questo cazzo di posto cazzetto apri prima l'armadio ma bello l'ho capito no scusate sto posto apprezzare carlo povero tavolo scusate 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 sono le prime a aprire l'armadio perchè lo slenderman ha paura degli armadio scusate un punto debole ma non ho capito dove hai preso le pagine perchè dobbiamo sempre uscire dobbiamo uscire perchè non ti ricordi che ogni volta che entravamo in una stanza e apriamo l'armadio non si faceva vedere esatto giusto come facevamo a prendere la pagina prima arrivavamo all'armadio poi andavamo a prendere la pagina perchè non appare quando no ha detto no e poi non ci può apparire di faccia perchè cioè se andiamo direttamente e usciamo ma poi l'uscita era lontana era l'uscita cioè dove ci trovavamo ci trovavamo dall'altra parte dell'altra parte dell'uscita non ci credo non ci credo avevamo fatto un 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 9 pagine sul 9 vabbè dai 9 pagine sul 9 abbiamo perso 9 pagine sul 9 ma perchè poi dobbiamo uscire perchè dobbiamo uscire perchè non ci sa avevamo finito se è vero avevamo finito ci manca ci mancava ci mancava soltanto uscire da questo cazzo di posto ci mancazzolo fermo e meno male che non c'era bisogno della chiave e meno male e meno male e meno male e meno male e da e scusa x di capitale e scusa e si perchè dopo dovete cercare due chiavi e dice intanto c'è la slender che ti cercava ti vede ti poteva prendere assolutamente e tutto questo qua abbiamo visto pure gli scoiattolini ringraziamo il nostro ex di burning light che la scorsa volta ne ha uccisi ne ha uccise due che cosa la caccarosa la scusa la caccarosa x di burning light la caccarosa la caccarosa uguale 0 la caccarosa sempre uguale 0 uguale 0 lo ricordate ok vabbè si chiama la bella di saggezza di x di burning light eh stavate l'abbiamo cambiata senza musica è dove sta la musica ah si scusa è la musica è la musica è la musica oh alleluia bello pensavo vabbè per la di saggezza di x di burning light tratto da tratto da tratto da qualsiasi cosa anche dal culo dello slender ok scelgo io tratto dal culo dello slender vabbè vabbè fatta dalla vita contemporanea di slender dell'universo oh e di tutte le cose esistenti pure quelle che non esistono tutte le cose esistenti compreso quelle che non esistono ok esatto vabbè comunque le porte le chiavi nel frattempo già siamo qua in questa porta le chiavi delle porte preferibilmente preferibilmente in tasca e non sparse in lungo il seminterrato cos'è questa cosa eh ricordate di xd sulla barca da qui si esce da qui si esce vabbè ci vediamo alla prossima puntata se alla prossima puntata avremmo questo culo slender di line pages l'avremmo finito ma ovviamente manca ancora slender di pages è giustamente mamma mia killer ciao iscrivetevi commentate mettete tanti likes ai video che faremo e seguite sempre le pelle di saggezza ciao ciao ragazzi